L'all weather del bianco, insomma qua si sta veramente bene. Deve entrare Improved Talk nel frattempo, manca soltanto Sopran Zamin, per andare ora agli ordini dello starter, manca soltanto Improved Talk, la femmina di Jacopo Bindi. Samuele Paladini, qualche piccola difesa, vediamo se i ragazzi sono sempre piuttosto efficientissimi agli ordini dello starter. Partiti. Il leggerissimo controtempo col Fiorito, che prova a recuperare all'interno di Rosex Cell. Rosex Cell che va davanti, su pellice dall'esterno però Sopran Zamin, con Sopran Zamin che va su Rosex Cell e chiede strada. Dietro i due pellice con all'interno Col Fiorito che ha recuperato in anticipo su Improved Talk, in coda su Incantada. Rosex Cell alle prese ora, con Sopran Zamin, i due galoppono in linea davanti a Col Fiorito, è rimasto quarto pellice e quinto Improved Talk. Andatura svelta davanti con Col Fiorito che segue Rosex Cell e Sopran Zamin. Con Carletto Fiocchi che prova a riprendere in mano, avendo all'esterno sempre Sopran Zamin, terzo e Col Fiorito. Poi Improved Talk, pellice e in coda su Incantada. Rosex Cell sempre con Sopran Zamin, Col Fiorito dietro i due che tende ad andare in terza corsia. In anticipo lungo su Improved Talk che deve rincorrere come l'ultima volta. Quando Sopran Zamin sta passando su Rosex Cell che ha poco da spendere. All'esterno provano prima Col Fiorito e poi Improved Talk. Con l'allungo di Col Fiorito, all'interno prova a riprendersi a Chirosex Cell. All'esterno Improved Talk con Col Fiorito contro Improved. Improved fa lo spunto all'esterno di Col Fiorito, si riconcretizza il match. Poi dall'ultima posizione viene anche su Incantada a far l'arrivo. Con Improved Talk, leggero vantaggio su Col Fiorito che reagisce dietro ai due su Incantada. Testa, testa, sulla scontro Samuele Palladini. L'allievo che prova a fare lo spunto finale per andare a vincere. L'altro che reagisce Improved Talk. Passa su Col Fiorito, su Incantada e Pellis. Samuele Palladini per Jacopo Bindi. Alla fine, Improved Talk. Si prende la rivincita su Col Fiorito ma c'è un'incolatura, valgano più o meno uno vale l'altro. 2.51 in Proved Talk al Totta Nazionale sulla vittoria con il numero 1. Corre bene su Incantada da rivedere quando correrà in Handicap e tutto. Era atteso il match tra Improved Talk col Fiorito. e la spunta Improved Talk. Si prende la rivincita sul maschio dell'astema in sella. Samuele Palladini. Samuele, bravo. Grazie Enrico. È andata bene, ho bisogno di un po' andatura. È rimasto un filo dietro ma ho bisogno di aggiustarsi. Sicuramente qualche metro in più non gli dispiace. Però, beh, sono contento. Samuele Palladini che vince con Improved Talk, colori e training di Jacopo Bindi, tra poco l'asta.